Ciao! Cosa hai fatto? Ero saluto con mamma sul sedile di dietro e papà è andato a sbattere contro un'altra macchina. E la tua mamma non ti ha tenuto? Sì, ma quando la macchina sbatte, ti fa volare se non sei sul seggiolino. Io, infatti, ho sbattuto sul vetro. E perché? Quello che è successo al vostro compagno succede a tantissimi bambini ogni anno. E hanno tutte le ferite come lui? Qualcuno sì, ma qualcuno è più sfortunato. Ogni anno decine di bambini come voi muoiono a causa di incidenti stradali. Lo capisce anche un bambino. Senza sistemi di ritenuta, i più piccoli rischiano la vita. Sulla strada ogni settimana muore un bambino. Non rischiare. Resta sulla buona strada.